...seria, Pinto che adesso conduce per 14 a 5 nei confronti di Amato, occupiamoci per ora del derby, anche il terzo, sicuramente conosce il connazionale, sa come giocarci, gli ha commesso una marea di errori contro i tagli difensivi di Abusev, per quanto riguarda i russi, prima non abbiamo parlato di Grigori Vlasov che è in forza, si becchia, di Artur Abusev, che però si esporta della topspin Messina, padrone del campo, della propria parte, bravo Abusev che comunque sta tenendo testa molto meglio in questo secondo set all'avversario, nel primo proprio non ci ha capito nulla... ...bello schia... ...è tornato a condurre Abusev... proprio entrare in campo Abusev... sta giocando un secondo di maggiore sostanza... anche se... per andare uno a uno... e sbaglia Ismailov... ancora una volta... è quello di Ismailov... ancora... questo punto ci ha ricordato l'Ismailov dell'inizio match... accorcia la gitta... bravo Abusev... non spinge... bravo con il diritto... bellissima difesa da parte... bravo Abusev... ha messo una palla lunghissima e poi sul colpo... siamo 8-8 con doppio turno in battuta per Abusev... gioca lunghissimo Abusev... tagliatissimo e lunghissimo... ma poi... è quanto mai imprevedibile... bellissimo... bellissimo... e va a segno Ismailov... e intanto è in vantaggio per 2 a 1... anche... il TT VG... grande equilibrio... anche a Roma... mette dei tagli... mette dei tagli... 3 a 0... 3 a 0... 3 a 0... non ha ancora vinto... risponde bene invece... Artur Abusev... che poi... inizia... ancora... vai ancora... vai ancora... recupera tutto... il suo avversario... approvato... e finisce qui... ha vinto Sadie Ismailov... con il... 12 a 10 conclusivo... grazie a tutti...